Ciao, sono Ilda Ramirez, sono nata in Ecuador e all'età di 7 anni sono arrivata in Italia come tanti e tante altre bambine e bambine e figli di immigrati. Il mio primo approccio con WordPress avviene all'università e nel 2018 fondo Comunichemos dopo una intensa esperienza presso uno dei principali providers italiani. A luglio del 2023 partecipo al mio primo WordCamp europeo ad Atene che è stata l'apertura di un nuovo mondo è stata l'occasione in cui appunto sono venuta a conoscenza della community italiana. Voi lo sapevate che l'8% della popolazione è di origine straniera? E di questo 8% 1,5 milioni sono ragazzi e ragazze nate o cresciute in Italia da famiglie straniere. Giovani appunto che attivamente partecipano nella nostra società italiana sono appunto nati oppure cresciuti in un contesto di doppia culturalità. Siamo ambasciatori e ambasciatrici della cultura italiana nei nostri paesi di origine e ambasciatori e ambasciatrici della cultura d'origine in Italia. E sapevate che l'attuale legge sulla cittadinanza risale al 92, pensate, addirittura prima che molti di noi nascessero. Come può WordPress essere accanto agli attivisti e alle attiviste nel processo di accettazione di una nuova proposta di legge affinché questi ragazzi e queste ragazze si sentano effettivamente accolti dentro una società che di per sé considerano già di appartenere? Pensate che solo il 3% della narrazione riguardo appunto il mondo migrante, solo il 3% ha come soggetto in prima persona il ragazzo o la ragazza di origine straniera piuttosto che lo straniero. Creando una confusione non indifferente perché veniamo tutti messi nel grande calderone delle tra virgolette problematiche di immigrazione non considerando però tutte le varie sfaccettature che essa ha perché noi consideriamo che tutte le storie abbiano diritto di essere raccontate con la stessa dignità e rispetto. Vi racconto un caso studio che ho seguito e che continuo a seguire, parentesi, io sono diventata attivista quando avevo 13 anni e direte ma cosa dici? E' stato, è scattato qualcosa dopo il primo viaggio in Ecuador dopo aver vissuto in Italia i miei primi 7-8 anni consecutivi. Quando sono tornata è stato uno shock perché arrivata là venivo definita l'italiana mentre fino a quel momento a scuola, immaginate era la fine degli anni 90, eravamo ancora pochi bambini, poche bambine dal viso colorato, comunque esotici. Quindi io fino a quel momento vivevo nella mia unica realtà di figlia di immigrati. Io per me ero solo unicamente ecuadoriana. Invece scoprire che venivo definita come l'italiana ha scattolito una serie di confusioni identitarie. Quando poi sono rientrata qui, sono tornata di nuovo alla mia etichetta di figlia di immigrati. All'età di 16 anni, cercando nel web, ho trovato dei forum di tanti ragazzi e ragazze che si sentivano come me. Erano appunto alla ricerca di spazi in cui avere una contronarrazione di quella che era la narrazione fino a quel momento di figli di immigrati. Qualche anno fa nasce il movimento dalla parte giusta della storia che ha come primo obiettivo quello di far cambiare la legge attuale sulla cittadinanza e durante le ultime elezioni ho creato insieme a questo movimento una piattaforma grazie a World Press che permetteva a chi non aveva la cittadinanza italiana di simulare il proprio voto. Quindi poteva votare, stupore, abbiamo ricevuto oltre 80.000 voti. Però appunto, come dicevamo, siamo oltre un milione. Ma dove sono? Dove siamo? La fortuna di avere World Press dalla nostra parte è che non abbiamo vincoli di algoritmi. Quindi sì, i social ci vengono incontro al fine appunto di far conoscere i movimenti, di far conoscere le attività. Però avere la possibilità di avere una narrazione nostra, di raccontarci in prima persona, ha fatto sì che nascessero anche altri movimenti, come ad esempio abbiamo Mari Ahmed, che nasce come Academy per avere una narrazione trasversale rispetto alla religione Islam e contro l'islamofobia. Michael Jones che fotografa la bellezza dell'origine straniera, quindi andando a raccontare tutto quello che è diverso rispetto ai connotati tradizionali di bellezza occidentale. Tutto questo per dirvi che c'è un caso studio di una ragazza che nel 2010 aveva creato un gruppo di Facebook perché non trovava shampoo e balsamo per la cura dei suoi capelli ricci afro e ha avuto la brillante idea di chiedermi di creare un e-commerce con World Press e ha fondato la prima linea italiana made in Italy della cura dei capelli ricci afro. Lei è di Monza, vive in Monza-Brianza e immaginate se avesse aperto il negozio fisico a Monza quanti avrebbe venduto i suoi prodotti. Invece grazie a e-commerce adesso vende anche in tutta Europa. Grazie.